Presidente, ieri ha visto la luce il nuovo governo, a questo punto lei opterà per il Senato? Beh, l'ho precisato in tutte le lingue e sto studiando anche l'ebraico antico, per precisarlo. Quando arriveranno le dimissioni? Non appena si definisce la mia natura giuridica di senatore. Attendere, diciamo, la convalida, attendere la validazione del processo elettorale, lo dice l'ordinamento, fino al pronunciamento della commissione delle elezioni, della verifica dei poteri. Io sono subiudice e dice il professore Mortati, ma anche il professore Manzella, tutte le elezioni prima della convalida sono a rischio di annullamento, di invalidazione. Quindi non è un capriccio da procedura per mantenere in vita la Regione. Dopodiché se mi chiedete, ti fa piacere che la Regione duri di più? Sì. Perché mi fa piacere? Intanto portiamo a termine ulteriori obiettivi. Sto chiudendo una partita importante con RFI. Qualche settimana in più mi aiuta, ma poi fa bene anche alla comunità politica di appartenenza perché si riprecisano i campi di lavoro, di attività. Io non nego nulla. Quello che è certo è che non sto facendo nulla a vantaggio della mia persona. Preciso due questioni. Non è vero, non è stato mai vero, non può essere vero, che io percepisca due competenze economiche. Ne percepisco una sola ed è quella del Senato. Non sto togliendo tempo né alla Regione né al Senato e che fino ad oggi il Senato mi ha fatto fare prevalentemente il Presidente della Regione. Terzo, non ho dato luogo a nessun conflitto di interessi. Cioè io non ho il che sono apparso interessato al Senato per avere l'immunità parlamentare. Come è emerso? I procedimenti che mi giuridicizzano vanno avanti, nonostante che io sia senatore, che era circolata anche la voce, che io avessi un di più di simpatia per il Senato perché mi fornisce lo scudo giudiziario. No, io preferisco avere ragioni nel merito e non dallo scudo. Non mi sono mai tenuto al riparo dai procedimenti di accertamento. E ogni volta che vado in accertamento di diritto ho l'impressione di uscirne approvato, più che assolto approvato.